Vi lascio dire una cosa sul discorso dei foreign fighters, ci sono 5.000 soggetti che sono partiti, sono andati a combattere, alcuni di questi sono rientrati, a quanto mi risulta in Italia nessuno di questi è rientrato e in Italia c'è un interessamento marginale, sono meno di 100 i soggetti che hanno scelto questa via e non sono sicuramente 100 i cittadini italiani, nel senso che i cittadini italiani magari si possono contare sulle dita di due mani, ma la cosa che deve essere evidenziata è che queste persone partono, vanno a combattere, ma nel momento in cui pensano di poter ritornare nel paese di origine deve scattare immediatamente un controllo serrato su quello che è la loro attività e su quella che è la rete di connessioni che loro hanno, sia familiari che di amicizia, che di frequentazione se vogliamo anche lavorativa o di ambito sociale. Intanto ricordiamo che è solamente di qualche giorno fa l'arresto del marocchino in Calabria e vanno avanti anche le indagini su questo fronte. E anche questo è importante perché è un lavoro che viene svolto soprattutto in ambito cyber e oggi il cyber è forse il problema più grande. Beh, anche perché diciamo che hanno affinato molto molto bene le competenze proprio che passano dal web, come sappiamo ce le insegna la rete che è stata formata. E sono spesso soggetti molto giovani che sono nativi digitali e quindi conoscono molto meglio di noi che magari abbiamo qualche anno in più tutte queste tecnologie.